Uno dei grandi interrogativi di questo festival è dove va la fiction italiana, abbiamo visto dalla Cattolica al grande Torpieri che ci sono dei segni di miglioramento, di evoluzione anche delle fiction se vogliamo di rottura, tu cogli questa tendenza e poi dove va la fiction di media. Diciamo un percorso innovativo che riguarda l'italiano è necessario, dopo circa 10 anni e più di programmazione, quello che vediamo anche succedere nei mercati europei è quello che è un processo di rischio di saturazione del genere, perché i contenuti sono stati poi quasi più affrontati e riproposti più volte, bellissimo quindi dell'omologazione, quindi della saturazione del genere esiste nei palinsesti, però per questo motivo noi invece stiamo cercando di capire quali nuovi linee narrative possiamo sviluppare, questo deliceale è un esempio bellissimo, ma tanti altri ne stiamo esplorando e devo dire anche con successo abbiamo fatto, realizzato anche quello che riserviamo dei piloti negli ultimi mesi di programmazione proprio per esplorare nuove strade, il pubblico ha risposto molto bene e questo ci dà coraggio per continuare su questa strada. Tra l'altro noi sì dobbiamo dare prodotti al nostro pubblico ma in realtà come come fiction media si pensiamo molto anche al mercato internazionale, vogliamo essere sempre più internazionale la proposta del nostro prodotto, sia dal punto di vista dei contenuti che nell'uso delle tecnologie o nel cercare di cambiare e rendere qua più virtuoso il processo produttivo, da una parte c'è un problema negato ai costi del prodotto che in questo momento non è un elemento sottovalutare, abbiamo necessità di ridurre i costi e è l'altro che stiamo facendo con i nostri produttori di riferimento e dall'altra rendere il prodotto sì in grado di catturare il pubblico dei nostri canali free o pay del gruppo media ma anche di proporsi sul mercato internazionale con la stessa forza con cui i prodotti nazionali entrano nel nostro libro di mercato. Lo stiamo facendo, dei primi risultati ci sono ma questa è stata la percorrere, nuove tecnologie, magari anche l'altra finizione, nuovi modelli produttivi e nuovi contenuti, nuovi generi a esplorare. Qualche progetto, titolo da voler spendere? Beh, i titoli sono tanti, è un titolo che è proprio di fabbrica talue, che per noi sono sempre titoli di prestigio, anche di pulso dei contenuti, che sarà uno degli eventi della prossima stagione, cioè l'intelligence, in sé puntati con Raul Boba, prodotto ovviamente che è molto innovativo, di grande prestigio e di sicuro appiccio nel mercato internazionale. Federico, Mediaset Premium si è imposta nel giro di pochissimo tempo come una sorta di sorgente, come dire, inscindibile per tutti gli amanti delle serie tv. Dove va Mediaset Premium, progetti, evoluzione di Mediaset Premium nei prossimi mesi, anni? Mediaset Premium che era partita, come sapete, dal calcio, sostanzialmente, offerta delle partite di calcio, ormai è un anno e tre mesi, quattro mesi che è entrata con decisione nel mondo delle grandi storie, la serie tv americana, italiana e il film. Stasera peraltro partono due canali nuovi interamente sindicati al cinema, sono i primi due canali che il film offre interamente dedicati al cinema, un canale Medias che prende un cinema e poi ritorna all'Italia finalmente, dico io, anche studio di Universal che era stato eliminato dalla piattaforma Sky e che oggi invece ritorna a Nuova Vita Suprema. aggiungo una cosa sul tema della fiction italiana, ho sentito anche i ragazzi, a volte è successo anche a noi, avere un po' di pudore nell'usare il termine fiction, fiction no, serie, meglio serie. In realtà non avrei questo pudore, la fiction italiana sta diventando, diciamo prima bene Valsecchi, un laboratorio di straordinaria qualità, poi magari ci possono piacere più certe etichette piuttosto che altre, però io ho lavorato nel mondo del cinema, ho lavorato con l'altro che non è il prodotto, ho distribuito i primi due film di luce, penso per esempio all'espensa di Muccino che viene da una straordinaria esperienza sul campo nel mondo delle ricostruzioni fiction, magari meno nobili, ultimo minuto, forse non è neanche la dignità della fiction, che pure per lui e per molti altri è stata una straordinaria scuola, come diceva prima Valsecchi, questo livello, questa fiction prodotta con questi talenti, con questi mezzi, è una scuola straordinaria e i confini tra la fiction di genere, la serialità un po' figa, il grande cinema si stanno veramente sul mondo quando abbiamo in campo talenti e mezzi di questo. Lucio, perché per dare la domanda dove va la fiction italiana, da chi la fa, dal punto di vista di chi la fa, lo spazio è una domanda, mi accordo un po' a quello che hanno detto loro, nel senso che credo che quello che stiamo cercando di fare, che abbiamo cercato di fare noi con il nostro piccolo per questi due anni, cercare di avvicinarci agli standard qualitativi delle cose che ci piacciono, io come spettatore sono grande amante della serialità, soprattutto quella che arriva dagli Stati Uniti, però credo che noi possiamo provare a fare qualcosa di interessante se lavoriamo sulle nostre specificità, che sono un approccio alla commedia che è figlia del generale di cinema italiano, però possiamo portare una televisione con degli scrittori di talento, dei registri validi e degli attori che sono in grado di rappresentare con i giusti toni. A me, però, quello che ci interessava fare era di lavorare tenendo alto il livello di realismo e credo che, soprattutto su una cosa un po' difficile da vedere in televisione, ma forse è la cosa che differenzia un pochettino la certa fiction dai film, da certi film e che invece mi fa godere, in modo particolare, quando vedo le serie americane, per esempio. Per cui noi abbiamo cercato di tenere alto questo tipo di livello, più possibile sulla citazione, più possibile sulla costruzione di una specificità nostra, senza andare a scignottare quello che fanno all'estero. Credo che se si cominciano a produrre cose che lavorano su questi temi che ci appartengono di più, forse possiamo alzare alzare il livello del nostro prodotto notevolmente. Volevo chiedere ai ragazzi, i vostri telefilm preferiti, visto qua c'è un pubblico misto tra giornalisti e anche a dettire a ruoli, ci si tratta di telefilm, velocissimo a giro poi passiamo alle domande dei giornalisti. c Cardi ma è una parola del nostro time giro poi passiamo alleготовche in un'umanità di euro. sento parte c'è un pubblico Lost e Skids Io sono completamente drogata di Lost Cioè proprio non so come ma non ne esco È una cosa che mi fa impazzire Vorrei lavorare, vorrei andare lì e dirgli fatemi lavorare anche a me Perché veramente E poi il dottor Aust Ma anche quelle italiane, no? Io sono un po' più antico, però mi piace un sacco Friends Io invece sono innamorato pazzamente della serie di titoli Brothers and Sisters E secondo me, di quelle che ho visto, c'è una delle migliori Proprio a livello qualitativo in tutto Sceneggiatura, recitazione Perché riescono a fare qualcosa di A rendere le situazioni assurde e renderle reali Cioè non so, riescono a fare questo mix Guardo te scusami perché Io sono totalmente drogata di Griss Anatomy Pratico di Griss Anatomy Desperate as Wines Quello più per mia madre, però Sono costretta perché non lo vengo E poi Beh, Scratch devo dire che Ultimamente l'ho riscoperto Perché all'inizio non mi piaceva molto Invece adesso l'ho riscoperto Come si chiama? Lui DJ DJ JD Ecco, lui è C'è Si vede e lo guarda E poi basta, no? Queste sono le migliori Io non sono davanti delle serie Perché non ho la costanza per guardarle Però Diciamo, quella con cui sono cresciuto E che ho amato È stata Beverly Hills E poi adesso Adesso mi piace Dottor House Ma non avrei mai la costanza per guardarle Perché sono fatto così Happy Days No, io devo dire che ho scoperto Io sinceramente non faccio Discorsi politically correct Nel senso non so A me è piaciuta molto Boris Non so se Se decide a vedere Mi è veramente piaciuta È un gioiellino Non so se è in programma La terza serie Però mi piacerebbe Per quanto riguarda il fiction americano Non sono un amante Però anche io sto cominciando A vedere scrubs Con un po' di ritardo E devo dire che è carina Pensavo fosse stupida E invece non era assolutamente È molto profonda È bella Sì 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 Basta C'è un giro Sì 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 No, è Frappo Che cosa vale Sì Sì